L'evento è stato veramente fantastico come quello della volta precedente della classe adulto e devo dire il livello tecnico altissimo e sicuramente promette di migliorare ancora di più. Non ho idea di cosa potrebbe essere fatto meglio perché così è veramente bello. Devo fare complimenti ad Ernesto, l'organizzatore, perché è riuscito a trasformare un palasport in una hall di un teatro. Era veramente una cosa avvincente che penso abbia divertito anche molto chi non ne capisce di Jiu Jitsu e questo è molto importante, spettacolare. Mi sono piaciuti veramente tutti, non ce n'è uno che non mi sia piaciuto degli atleti. Per cui complimenti a tutti e soprattutto all'organizzazione.